Roma e Pechino potranno trarre benefici notevoli da un contesto di cooperazione economica fondato sulla leale concorrenza tra imprese. La parte cinese vuole aumentare i scambi commerciali a due sensi e il flusso degli investimenti a due sensi. Questi buoni propositi istituzionali su cui si dovrebbe basare la nuova via della seta, un concetto più ampio che comprende 30 accordi per un valore stimato di 7 miliardi di euro. Come chiarito nell'intervento del presidente cinese che ha elencato gli asset di maggior interesse con aziende italiane come Snam e Danieli, solo per citarne alcune fortemente coinvolte. Ci convergiamo che le due parti debbano rafforzare le sinergie tra le rispettive strategie di sviluppo per valorizzare la collaborazione dei settori infrastrutturale, portuale, logistici, nonché dei trasporti maritimi, al fine di costruire un serie di progetti concreti e qualificati lungo la via della seta. Per quanto riguarda il capitolo porti, chiaramente il più discusso, nella lista vi sono l'autorità portuale di Trieste e quella di Genova che firmeranno entrambi un accordo con il colosso delle costruzioni cinese CCCC, la China Communication Construction Company, quello che viene definito da più parti il braccio operativo di Pechino che ha preso in mano la situazione relativa all'intesa battezzata Triab nata con l'avallo di Bruxelles. Stando all'ufficialità, si tratta di un accordo diviso in tre parti che non vuole porre le banchine di Trieste sotto leggi da cinese, ma, come ribadito dal presidente Fedriga, prevede un intervento su una breve tratta ferroviaria consentendo, per contro, all'autorità di sistema del mare adriatico orientale, anche attraverso la partecipata Interporto, di partecipare a progetti logistici in Slovacchia e in Cina. Restano però alcuni interrogativi a cui ancora non si ha risposta. Perché i dettagli specifici dell'intesa restano al momento secretati? Possibile che un colosso simile sbarchi a Trieste esclusivamente per un intervento così ridotto? Quali, insomma, le reali mire dei cinesi?